queste le azioni più importanti della partita al terzo feller impegna così il bologna reagisce due belle conclusioni di stringara sul secondo tiro al quindicesimo il tiro è deviato da Bertold Cervone riesce a neutralizzare in angolo trentunesimo contrasto in area tra Iliev e Rizzitelli la Roma protesta e reclama il rigore prima dell'intervallo il più bello intervento di Cervone subotta colpo sicuro di Bonini ripresa al sesto Bologna in vantaggio cross di stringara l'infortunio difensivo di Nela che rivediamo da altra angolazione Bologna potrebbe raddoppiare al ventitresimo invito di Luppi e bravo Cervone a ribattere il tiro di Vass la Roma pareggia allo scadere rinvio di stringara che finisce sulle gambe di feller e smarca Rizzitelli che con un pallonetto supera così ma il risultato questa volta proprio non è importante gli sportivi di Bologna e di tutta Italia si stringono attorno a Lionello Manfredonia grazie a tutti